Cani e gatti da mangiare, folle, insolita, crudele, richiesta avanzata da Dele Saltarella, appassionato responsabile del canile municipale di Lanciano di Villa Martelli. Un 37enne lancianese residente a Santa Maria dei Mesi, già due volte, prima marzo in pieno lockdown, poi in estate, si era recato presso la struttura chiedendo due cani e due gatti da destinare ai propri pasti, manifestando disappunto all'ovvio di niego, minacciando, mostrando evidenti disturbi della personalità. E per mesi a Dele Saltarella ha segnalato gli episodi al comune e ai servizi sociali alle forze dell'ordine, ma nessun provvedimento è stato preso, tant'è che l'altra sera il giovane si è nuovamente presentato al canile, sempre con le solite richieste. Stavolta alle minacce sono seguiti i fatti, ha cercato di scardinare il cancello d'ingresso, ha minacciato con un grosso sasso, si è poi accanito sulla macchina della responsabile, danneggiandola, si è calmato fino all'arrivo delle forze dell'ordine, un episodio inquietante. A Dele Saltarella ha poca voglia di parlare, ma la paura segue la rabbia. Parlerò nelle sedi dovute. Solo tanta paura. Guarda, più che paura, rabbia, perché credo che dovevo essere tutelata, anche perché era stato fatto tutto prima da febbraio e non è stato fatto niente, ma questo verrà fuori anche questo, che comunque chi doveva fare non ha fatto. Per i dettagli nessuna di casa? Per i dettagli no. Buon lavoro, sempre a difesa degli animali, che non vanno in brodo.